Allora, siamo a... dove siamo? Stiamo in mezzo alle colline Stiamo andando sempre verso Pianello e ci siamo accorti che praticamente sotto di noi ci sono le nuvole e queste sono sempre le colline piacentine sempre sterminate colline e vigneti ed altro tra l'altro abbiamo scoperto che la locanda dove ci troviamo produce il vino piacentino e anche l'olio e quindi adesso proseguiremo il nostro percorso per arrivare nel paese